Tutti in Svizzera comprano e vendono in questo modo. Dal sito tutti.ch si possono comprare e vendere molte categorie di prodotti. Inserire un annuncio è gratuito e io ho messo in vendita una custodia per iPad. In poco tempo l'ho venduta. Tramite l'applicazione Twint ho richiesto il pagamento della somma inserendo numero di telefono e nome del compratore. In un attimo sono stato pagato e adesso non mi resta che correre in posta per spedirla. Busta spedita giusto in tempo.